Da parte vostra ci sono state delle richieste ben precise, qual è stata la risposta del Viminale? Noi abbiamo chiesto con forza che venga chiarito subito quello che è accaduto oggi. I responsabili dell'ordine pubblico non si sono dimostrati all'altezza di mantenerlo. Noi pensiamo che la disperazione delle grandi vertenze industriali di questo Paese sta arrivando veramente al limite e pensiamo che soprattutto a fronte del fatto che il Presidente del Consiglio dice di occuparsene in prima persona lo Stato non possa mostrare solo la faccia dei manganelli, ma crediamo che sia molto più importante che si promuova come parte attiva per la soluzione delle vertenze. I lavoratori vanno accolti, non vanno manganellati, sono lavoratori che pagano le tasse e il rapporto delle forze dell'ordine che sono lavoratori come loro deve essere assolutamente diverso. La risposta di Alfano? La risposta di Alfano è che chiarirà il prima possibile la ricostruzione dei fatti, individuerà quelli che sono i responsabili. Consideriamo accanto a questo e valuteremo quello che ne verrà fuori, molto importante la disponibilità a costruire un tavolo permanente presso il Ministero degli Interni per monitorare e per gestire al meglio i problemi eventuali di ordine pubblico di tutte le vertenze industriali. Questa versione, ultima domanda, prima di restituire la linea, Alessio, la doppia versione, il fatto che comunque il corteo si stesse spostando, secondo la questura, verso la stazione Termini, invece voi avete negato fin da subito questa versione dei fatti? Noi abbiamo un grande rispetto per il lavoro delle forze dell'ordine, ma il comunicato della questura è assolutamente un falso. Noi andavamo in una direzione esattamente opposta a quella della stazione Termini e tutti i responsabili dell'ordine pubblico presenti in piazza sapevano che la destinazione era il Ministero dello Sviluppo Economico, per cui non si raccontino balle, la verità è esattamente un'altra.